Siamo stati lasciati soli e senza alcuna allerta meteo. E' quanto denuncia la FAB CNA, la confederazione che rappresenta gli operatori degli stabilimenti balneari, che con Cristiano Tomei punta il dito contro la macchina della comunicazione di protezione civile. L'improvviso maltempo di domenica scorsa, dunque, ha colto di sorpresa balneari e turisti, gettando questi ultimi nel panico e causando numerosi danni alle strutture, soprattutto lungo la costa teramana e pescarese. Siamo stati presi tutti alla sprovvista, nessuna comunicazione è stata effettuata e soprattutto la preoccupazione era per gli utenti della balneazione, peraltro molti bambini che si trovavano in acqua proprio in quei momenti, in quei minuti. Nelle vicine Marche a San Benedetto l'allarme è stato diffuso e c'è stata possibilità, soprattutto per i bagnanti, di scappare. Questo è un fatto che non deve più succedere perché è veramente molto pericoloso. Oggi con la tecnologia che abbiamo è possibile sapere le cose per tempo e in questi casi sono sufficienti anche due o tre ore per organizzarsi. Io ricordo che durante una domenica d'estate su una regione costiera come quella abruzzese ci sono decine e decine e decine di migliaia di persone riversate su linque di sabbia. Sono situazioni che necessitano dei dovuti accorgimenti, ma anche di una rete, di un sistema che serve proprio per prevenire. I titolari delle concessioni non sono solo preoccupati per i danni dal maltempo, ma anche per gli sviluppi della direttiva Bolkestein. Quali sono le novità? Abbiamo un annuncio del ministro per il turismo Gnudi del 16 agosto che anticipa la presentazione di un provvedimento, di un decreto legislativo di cui nessuno conosce i contenuti. Noi abbiamo chiesto, non solo noi, ma anche le regioni e le istituzioni locali comuni di avviare un confronto, riaprire il tavolo di concertazione perché peraltro le intese senza conoscere i contenuti non possono avvenire.